Hey, Warriors! Buon appetito! Siamo qui per un nuovo video intusiasmantissimo video in play, questa volta su Hotline Miami nel... ...3... ...14 di quaglio... ... dell'anno B. E abbiamo uno che sta vomitando qui! Ho lontato di dobbia missa strozzo! Blah, blah! Ah... Tutto... tutto bene? Tutto... tutto ok? Ok... Ciao! Senti, sei qualcosa del nero che sta lì che sta sanguinando e sembra che ti hanno tolto l'occhio con una cucchiarella? No? Bene! Ok, probabilmente non è stata lei! Sono oggi... ... dell'ufficio! Voglio solo ricordarti che la tua relazione deve essere pronta per domani mattina! La voglio sul mio tavolo per le 8! L'indirizzo è il 312 su Death Street, nel caso ti sia dimenticato! Bop! 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 Ok? Bene! E... Andiamo e... Facciamo finta che non abbia detto troppi po! E abbiamo fatto clic! 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 non questo non questo neanche questo possiamo andare dai c'è qualche problema con questa pistola l'ho capito lo capisco è un'arma del cazzo e quindi io farò questo ecco no perdonatemi c'è qualcosa che non mi è chiaro posso posso tecnicamente o grazie posso riavviarle a fare questo grazie grazie dove cazzo vai vieni qui no tab questo ok ok ora mi sto per incazzare visto per incazzare malamente tu vieni qui ehi 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 vi giuro posso 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 superare questo pezzo posso farcela possiamo farcela possiamo farcela possiamo possiamo ho detto possiamo farcela quindi dato che ho detto che possiamo farcela solo ti intenderebbe dire caro il mio smart dell'as finalmente grande ce l'abbiamo fatta è questo che volevo dire è questo che volevo dire facciamo così ah no ok ok state state buono oh dove vai dove vai andiamo qui dove stai andando dove stai andando tranquillo allora so di non essere rincoglionito fino proprio completamente ok so di poter fare delle determinate cose come uccidere questi cazzoni no si vede di no si vede che non ho le capacità fisico motorie per poterlo fare bene bene mi fa molto piacere mi fa molto molto piacere vieni grazie e molti di voi staranno uscendo rex perché che cazzo non usi un'arma da fuoco non ne ho idea non so perché non lo faccio so di non farlo però vaffanculo non lo fa così e vediamo se arrivano oh io ucciderò babbo natale non so perché ma io ucciderò babbo natale perché è colpa di babbo natale io lo so lo so me lo sento me lo sento dicevo me lo sento nelle vene che è colpa sua è colpa di quel ciccione del cazzo ok uccidi questo uccidi lui prendi questo cazzo di mitragliatore fotti entrambi fotti questo forza 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 dai 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 prendi questo prendi questo cazzo cazzo ci ha potuto facciamo 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 dai 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 forza dai è bello forza vieni qui vieni qui io giuro su dio che ucciderò qualche bambino non so chi ah ok grazie suppongo oh no 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 giaccaro ahahah wow baby dove pensi di andare ahahahah ciao a tutti bellezze attimo quello non ci dovrebbe essere tipo una sottospecie di di super coltello super coltello eccolo qua come si muove nessuno lo sia ok non so perché sto cantando questo lo sto cantando ok c'è una pistola giusto dai 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 forza dai uno due tre quattro vieni qui si va bene pure questo ok ok eeeh bombete yeeeh oh non ci no fuck you me l'ero scordato ok oh cazzo porca puttana allora calma con calma prendi molto più in faccia stavo stavo dicendo stavo 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 dicendo che ho finito qualche arma un po' più normale tipo ecco il caro vecchio fucile no il caro vecchio fucile il problema è che le armi non funzionano contro queste struzze quindi quindi un cazzo forza dammi qui dai dai allora uno forza e poi non escono più dalla macchina per che non si sa ok dai no oh oh ok mi arrendo hai vento vorrei fare tipo sudamericano ma non riesco a farlo e in realtà non è russo quindi mi arrendo hai vinto oh lo so grazie oh ok immagino che anche così possa possa andare bene non so perché gli ha spaccato un braccio dopo avergli spaccato la testa credo sadismo verso un cadavere sì il nostro personaggio è fottuto nel cervello è una cosa abbastanza una cosa che si capisce si capisce abbastanza bene quindi voto B meno ce la farò mai apprenderà più peter l'unicorno è una nuova arma lo so oh wow oh ok signore si è accorto che tutti i suoi commensali sono stati uccisi ehi tu serata riservata ai VIP VIP è meglio che tu te ne vada te ne vada vada che cazzo hai da guardare non lo so arrivederci ciao ciao ho paura ho paura parte quarta legami ok oh mio dio cosa sta per succedere ehi mamma sei in casa ho portato i kebab no ok kebab mamma la mia prostituta gratis è morta che ok oh no chi è stato oh sei stato tu mister topo ah ecco di lì mi stavo chiedendo quando saresti tornato bene facciamolo finito allora aio oh oh cosa dov'è quando oh no il mio cadavere sembra che siamo rimasti solo io e te sono sicuro che ormai tu sappia che tutto questo non finirà bene presto sali tutto solo ma è giusto che sia così prima di dirci addio ti confiderò un segreto ciò che farai da ore in poi non servirà a nulla non vedrai mai l'intero quadro della faccenda ed è solo colpa tua è giusto il tempo che tu te ne vada c'è un letto caldo nella sala di fronte sembra che tu abbia bisogno di un po' di riposo oh ok andiamo nel letto andiamo posso dormire no devo andare wow oh è vero ora mi ricordo ah no ah sì ok ricordavo cosa doveva succedere ma non ricordavo in che modo succedesse capitolo 12 trauma ehi doc quando è che si sveglierà questo bastardo non saprei ormai è comodo se ci vada ma prima o poi si sveglierà giusto questo tizio è il maggior sospettato di un caso importante ascolta ne so quanto te anche se posso dire che ci vorrà un po' non sei ancora pienamente ripreso dall'operazione non c'è niente che possiate fare abbiamo bisogno di lui voi non siete stati in grado di salvare la sua ragazza cioè abbiamo messo in ferro il tipo che li ha sparati ma quello strozzo non dirà un cazzo e cosa ti fa pensare che questo tizio parlerà 21 luglio dell'89 Miami Florida ehi salve ehi dove pensi di andare coglione chissà che è meglio che ti mi sa che è meglio se ti metti in custodia io sono qui sono nudo la mia testa la mia testa no ok comunque termine questo video on play nel prossimo video on play siamo per arrivare al finale della sua storia non mi ricordo ancora quanti capitoli siano ma stiamo per arrivare quasi al finale quindi termino questo video on play spero che questo video on play sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video on play sempre con il vostro Rax ciao a tutti bro oh yeah